Intanto partiamo da una puntualizzazione. Voi siete un comitato apolitico? Assolutamente sì, siamo un comitato al cui interno ci sono persone di tutte le estrazioni politiche e quindi copriamo ampiamente tutto l'arco istituzionale. Il CASP, Comitato Arettino Stop Puzzo, lo scorso venerdì presso il Circolo di Chiani, ha convocato la prima assemblea sul tema degli odori molesti che ormai da diversi mesi invadono alcune zone di Arezzo, Le Poggiola, Olmo, San Zeno e Via Romana. Quest'estate è stata molto dura perché a differenza degli anni precedenti, quest'estate con 40 gradi, siamo stati quasi tutti i giorni chiusi in casa. Persone poi che sentendo questo puzzo, alcuni si sono sentiti anche male, hanno detto, vomito, svenimenti. All'assemblea hanno partecipato oltre 250 persone. Per l'amministrazione comunale era presente solo il dottore Alessandro Forzoni, direttore dell'Ufficio Ambiente del Comune, ma nessun assessore e nessun rappresentante della Giunta Ghinelli. Avremmo preferito che ci fossero stati direttamente gli amministratori e soprattutto i responsabili di AISA, dell'ARPAT e dell'ASL per poter avere un confronto diretto con loro perché poi alla fine le scelte politiche e le scelte tecniche vengono da questi enti. Forzoni ha illustrato, scrive il Comitato in un comunicato stampa, alcune tematiche importanti relative al termo valorizzatore di San Zeno. Da una mail di ARPAT dello scorso settembre ricevuta dal Comitato, si afferma che questo tipo di fenomeno odorigeno potrebbe anche non essere ricompreso in una tematica ambientale, ma più che altro essere di carattere igienico-sanitario. Gli odori, si legge ancora, potrebbero essere stati causati dall'arrivo all'impianto di San Zeno di una quantità importante di rifiuti provenienti dal comprensorio di Grosseto e le alte temperature di questa estate poi avrebbero fatto il resto. Durante i mesi estivi, poi, secondo una determinazione di Auto Sud, AISA ha accolto i rifiuti organici della Toscana del Sud da raccolta differenziata, servizio che, sempre secondo la mail di ARPAT, sarebbe terminato nel mese di ottobre. Non siamo assolutamente né contro l'inceneritore, termo valorizzatore o quello che, così come lo vogliamo chiamare adesso, non siamo contro gli impianti di compostaggio, però noi vogliamo che l'operatività di questi impianti non requino troppo danno, troppo disturbo a un territorio che, purtroppo, è un territorio o, per fortuna, ampiamente abitato. La battaglia del Comitato, comunque, non si fermerà qui. Intanto, all'orizzonte, un incontro di una rappresentanza del Comitato con il presidente di AISA, Giacomo Cherici. Non so se sarà un incontro aperto, insomma, a tutti i cittadini o solo a noi del Comitato, che in questo momento ci teniamo a rappresentare chi si sta, cioè che sta avendo questo problema, questo disagio e vediamo un po' quello che loro ci propongono e quello che ci verrà chiarito, insomma, su questo disagio, ecco. Perché non deve essere una cosa che, come sempre, finisce in taralluce vino.